Mizzuno è un'azienda giapponese del 1906, quindi con una traduzione proprio nel mondo sportivo antichissima. Ha fatto dello sport attivo la propria mission e quindi ci sembrava come azienda fondamentale cominciare a trovare qualche partnership importante che potessero comunque far vedere cosa vuol dire lo sport attivo fatto con una certa coerenza e con un'ottima qualità. Sicuramente Mizzuno è una multinazionale però molto attenta alle alle collaborazioni per cui diversamente per non fare nomi magari con un po' più conosciuti del brand Mizzuno dobbiamo cercare di colpire l'eccellenza quindi i nostri tipi di collaborazione vengono fatte dove lo spirito di qualità, lo spirito di perfezionamento è sicuramente nel DNA delle collaborazioni che cerchiamo di portare avanti. Per cui con lo show è stato trovato questo connubio e una partnership che almeno per quanto ci riguarda è altamente soddisfacente. eccellenza perché Mizzuno è un prodotto eccellente, continua ricerca dell'innovazione e legato a questo sicuramente abbiamo la capacità di raccogliere le informazioni che ci passa l'utente finale quindi quello che tu prima mi chiedevi come vedi questo sviluppo sicuramente abbiamo bisogno di un feedback da chi giornalmente usa i nostri prodotti perché solamente tramite questo riusciamo avere un'evoluzione sul prodotto e a trasmettere il messaggio il messaggio corretto poi ai tecnici che devono trovare poi le soluzioni adeguate tutti i giorni. quindi un'esplotente 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 Grazie.